Nessuno slogan, nessuna minaccia, nessuna offesa, niente striscioni di nessun tipo, niente inviti perentori a lasciare, ma la scelta di interrompere un amore viziato. Del resto, se da una parte c'è interesse e dall'altra no, meglio fermarsi qui. Per cui il club Penta ha deciso di fare un passo indietro con un gesto semplice, dignitoso e di estrema lucidità, come si legge nella nota con cui il club della Valle dell'Irno, presieduto da Raffaele Colonnese e operativo all'interno del centro di coordinamento, ha deciso di cancellare l'intitolazione al presidente Danilo Iervolino. In questi due anni e mezzo, scrive il presidente Colonnese, pensavamo e contavamo di poter ricevere la visita del presidente Iervolino presso il club all'intitolato, presto però ci siamo accorti che i rapporti fra il club e il presidente sarebbero stati pure a chimera. Tutti i soci hanno a cuore le sorti della serenitana e difendono la dignità di una città, che merita ben altri palcoscenici. E da allora, dal giorno 8 agosto, il club continua la sua esistenza con la denominazione Club Granata Penta, fanno sapere i soci. Intanto, dopo la vista di ieri in città, ufficialmente per motivi non calcistici, Busso ed Elefante, Di Gabbetti, sono attesi alla Rechi, il DG Impettore per la gara di Coppa e il prossimo presidente Granata per le sorti in campionato. E nel mentre, posere con interlocuzioni e dialoghi, mentre qualcuno prepara l'offerta e qualche altro scrive lettere di intenti, c'è un dato che dovrebbe far riflettere il proprietario della serenitana. Nonostante il suo distacco, il suo ingiustificato allontanamento dalla città e dalla squadra, nonostante un mercato finora improntato principalmente alle uscite, la piazza resta accanto alla squadra. I tifosi non vanno in vacanze, c'è chi sottoscrive l'abbonamento e chi compra i biglietti per le prime due gare ufficiali, garantendo presenza e sostegno ciò di cui ha bisogno la squadra e che non sta arrivando dalla proprietà e da chi la rappresenta in loco. Ed il bisogno di sentire vicinanze e sostegno è un sentimento che appartiene anche al gruppo stesso. Non a caso il neacquisto Paolo Ghiglione ha voluto chiedere proprio questo ai tifosi nella sua prima intervista ufficiale attraverso i canali del club. È una piazza che mi ha sempre affascinato, tante volte sono venuto qua a giocare e ho visto un tifo veramente caldo e ora che sono qua sono contento di difendere questi colori. Sento dire di stare vicino alla squadra, di supportarla e speriamo di torci tante soddisfazioni insieme. Forza Salernitana!